Novembre, il mese delle tasse. Sono ben 18 le scadenze fiscali e tributarie che a partire da domani e fino al 30 metteranno a dura prova i contribuenti padovani. Secondo lo studio di Confapi, Padova verserà allo Stato quasi un miliardo di euro, 995 milioni in due settimane. Si comincia domani con il versamento dell'IVA per il mese di ottobre e per il terzo trimestre dell'anno e il versamento delle ritenute alla fonte di redditi di lavoro dipendente e sui redditi di lavoro autonomo. Una lunga carrellata di esborsi che culminerà appunto il 30 novembre quando i padovani saranno chiamati a saldare i conti con IRPEF, Ires e IRAP. Secondo i dati diffusi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, le casse dello Stato incasseranno 55,3 miliardi di euro, quasi un miliardo proprio dai contribuenti padovani, confermando la tendenza all'aumento delle entrate superiore al 3%. La voce che inciderà di più è quella relativa all'acconto Ires, 263 milioni di euro a Padova, seguita dalla liquidazione dell'IVA, 230 milioni di euro.